Liana Esposito nasce Ascom Giovani, qual è la mission? Ascom Giovani si apre a giovani imprenditori e professionisti come facciamo da tempo anche con l'incubatore Stecca per proporre nuovi linguaggi e nuove modalità operative. Quindi creare questo link tra vecchie e nuove generazioni di imprenditori e fare in modo che anche all'interno di un'associazione storica come quella che è l'Ascom che vive ormai dagli anni 70, possano entrare nuove sollecitazioni e confronti per ragionare quindi su nuovi modelli organizzativi, gestionare nuove strategie. Ieri il primo intervento ufficiale del vostro rappresentante di Ascom Giovani al Consiglio Comunale, un Consiglio Comunale tutto dedicato e incentrato sul PNRR. Allora abbiamo ufficializzato quindi la nuova nomina di Andrea Speranza che è il vincitore della nostra challenge explosiva con l'idea di presentare quelli che sono gli spunti su cui noi lavoriamo come incubatore e che sono quelli poi su cui vorremmo che l'amministrazione insistesse per intercettare linee di finanziamento che poi vanno ad impattare sul nostro ecosistema. Quindi innovazione, competitività, cultura, turismo, transizione ecologica, inclusività, insomma sono tanti i temi che noi abbiamo toccato e che sono stati poi spiegati dal nostro Presidente e lasciati alla relazione del Presidente del Consiglio. Andrea Speranza, Presidente di Ascom Giovani, ieri il suo primo intervento in Consiglio Comunale, un Consiglio Comunale monotematico sul PNRR, una grande opportunità per il territorio ma anche per i giovani. Sì, in effetti il PNRR non è soltanto un'opportunità ma è una sfida che è rilanciata sul nostro territorio che vale l'esistenza e la costruzione stessa della identità della nostra città. Fondamentalmente al di là delle programmazioni infrastrutturali, di riconversione climatica e di riconversione energetica è importante lavorare su idee progettuali che possano sollecitare nuovi bisogni e nuove forme di imprenditorialità sul territorio. Come Ascom Giovani ci proiettiamo per intercettare nuovi bisogni che abbiano la possibilità di sviluppare dinamiche socioculturali, tali da rivitalizzare e rifunzionalizzare il tessuto sociale della nostra città. Perché pensiamo fortemente che il PNRR sia un'opportunità tale da poter riprogrammare non soltanto la forma urbanistica della nostra città ma anche nuovi contenuti. Anche con una strategia di governance, di norme locali che possano in un certo senso cambiare in maniera tale che si possa dare l'opportunità tra 10-20 anni ai giovani di non essere obbligati ad andare via ma poter avere quelle giuste sollecitazioni che possano in un certo senso coniugarsi alle loro idee e ai loro progetti di vita qui in città.